Il Ministero boccia le deroghe sui lupi chieste dal Veneto. Lo sottolineano Andrea Zanoni e Laura Puppato, consigliere regionale e senatrice del PD. Il piano, scrivono evidentemente soddisfatti, in una nota è stato rigettato da Roma. Per la coppia Zanoni-Puppato, pur avendo avuto i fondi per le recinzioni antilupi, gli indennizi agli elevatori e altro, eppure avendo votato in conferenza Stato-Regione il no a deroghe, il Veneto si voleva inventare catture e recinti per i lupi in cattività e sterilizzazioni, ma è stato bocciato. Ora, una domanda ci sorge spontanea, ma cosa c'è da esultare? Facciamo una premessa. La richiesta di avere una deroga è partita dai malgari e dalle persone che lavorano sull'altopiano e che, come abbiamo testimoniato con i nostri servizi, hanno avuto parecchi problemi e danni dovuti alla presenza del lupo. Ogni settimana ci arrivano nuove foto, capi sbranati e qualcuno ha già riportato il bestiame in pianura. La Regione, anche sulla spinta della mozione Finco Berlato, approvata dal Consiglio regionale per far uscire il Veneto dal progetto Life Wall Fads, aveva chiesto una deroga. Insomma, il tentativo di dare risposte ai malgari è stato fatto. Dunque, perché si esulta? Che motivo hanno Zanoni e Puppato di stigmatizzare questo no arrivato dal governo? Hanno a cuore le sorti dell'altopiano e delle montagne venete? Ripetiamolo per l'ennesima volta, non ce l'abbiamo con i lupi, la nostra posizione è al fianco dei lavoratori della montagna che, per l'ennesima volta, rischiano di rimanere beffati.